Ciao a tutti ragazzi sono Ciccio di Electric Channel Ritorna il video Dopo 5-6 giorni che non lo pubblicavo Come sapete è appena finito l'evento di John Cena Anche se non vi ho pubblicato un video E' finito due ore fa esattamente alle 17 Adesso non c'è più Diciamo che oggi è un video molto speciale Primo perchè vi faccio vedere quest'icona qui Che è quella delle Questa qui della medaglietta Che è quella del Vincitore del premio di John Cena Che dovevi fare 15 vittorie Con viste infinite chiaramente Tutto molto easy Ogni vittoria ti dava 100 verdoni E ogni 3 vittorie si cambiava modalità Però ormai è passata Adesso noi siamo qui oggi Perchè guardate quanti verdoni abbiamo 8.475 E sono esattamente le 19.51 Del 23 settembre Diciamo che in questo momento Vorremmo scioparci una skin In cui abbiamo anche 73 gemme Quindi useremo 8 gemme Delle nostre 73 Perchè i verdoni non bastano per scioparci Bury il plankton ragazzi Bury il plankton Vedete che se io clicco sopra Ci sono 8.475 verdoni Più 8 gemme Che però Le spendiamo perchè Mi scioperò il pass Della prossima stagione Con la skin energetic Bellissima Perchè qui vedete cosa comprende Mega offerta Che scade tra 14 ore Quindi domani pomeriggio alle 2 Quando tornano a scuola Non ci sarà già più Quindi diciamo che Comprende la skin di Beryl Che è fantastica Poi le due versioni di Beryl Le con il giocatore 3000 bling con cui andremo a scioparci Una skin epica e una super rara Se volete anche in questo video Direttamente insieme Cioè se voglio io eh Poi uno stat drop leggendario Ed è questo che Sarà bello corposo 10 stat drop casuali E soprattutto La skin Come ho già detto in precedenza Ok No nulla ho sbagliato adesso Ce la scipiamo 3 2 1 Eccola qua Wow Wow Fantastico ragazzi Nel tema di Spongebob Beryl Plankton E poi abbiamo i 10 stat drop casuali Uno raro Dobbiamo trovare i rari Se nelle leggende vogliamo trovare qualcosa di scolposo Dobbiamo trovare tutti i rari O qualcuno Oggi I test stat drop giornali Li ho trovati tutti e tre epici Anche questo qui raro Anche questo qui raro Ce ne mancano 7 Ora 6 Oh super raro Dopo questo Ce ne mancano 5 Siamo a metà Un mitico tensione Con Scusate Un pin di games Epico Quindi ci sta Abbiamo già fatto troppo Per trovare un mitico Dopo questo Ne mancano 3 In teoria Ora ne mancano 2 In teoria Si è fatto bene i conti Poi c'è questo qui Super raro Con punto di energia Monete che ci servono Ora monete non le sto trovando In questo raro qui Dobbiamo trovare monete E infatti L'ultimo dovrebbe essere Questo raro E ecco qui ragazzi Lo star drop Leggendario Siamo pronti tutti Chiaramente Se vi iscrivete al canale Dopo questo video Oppure mentre Guardate Che appare questo Schermata Mentre Guardate il video Lo pubblicherò domani Esattamente O dopo domani Quindi O il 24 O il 25 Settembre Diciamo Che 3 2 1 Robiamo Se vi iscrivete Sarà Molto più content Eccolo qui Ecco qua ragazzi Beaneco Allora Vi devo dire una cosa Preferivo trovare Qualcos'altro Però E' una skin Super rara Che ci risparmiamo Con i bling E con le gemme E' del tema Super Kawai Attiviamo Perché E' carina E ora abbiamo I 3000 bling Che Ce li hanno già dati Ora abbiamo Zero Perdoni Però Ne abbiamo Quattro decimila Nel nostro club Che Fa pena Lo so Ora Ragazzi Andiamoci A vedere Quanto è bella La skin Di Beryl Andiamo a vedere Di carità E' la skin Di Bea Un attimo Andiamo a vedere Dov'è Bea Dov'è avere Qua Eccola qui Abbiamo Beh questa qui Di Bea Cucinella Che è rara Ecco Cyberbian Che lei è bella Profisico Cyberbian Rispetto a Bea Cucinella Cioè A Bianeko Però Andiamo a vedere Di che la vita È Bianeko Andiamo qui Possiamo Shopperci anche Questa qui In offerta Di Jesse Ma Cioè È bella Ma non la voglio Shoppare Semplicemente Ah Ecco qui Ho trovato il tema No Scusate Ecco qua Che simbolo È super Kawaii Questo E Bea Neeko È esattamente Super Rara Poi c'è anche Bea Neeko Dorata Che è Epic E possiamo Shopparcela Con i Bling Ma A me Non mi Interessa Questo qui Possiamo Shopparcela Lo stesso Itashiba Anche Ora Andiamo a vedere Che skin Epica Shopparci Ecco Ragazzuoli Perché con 7800 Bling Bisogna Shopparci Una super Rara E una Epica Una di Leondinos Ecco Sì Potrei dire Questo Leondino Ci sono Ottime Skin Epica A me piacerebbe Tantissimo Ambra della Vega Da Shopparmi Però se vogliamo Completare quella Con Beryl Abbiamo già fatto Quella Beryl Plankton Ok Beryl Crash Test Ash Pizzaiolo Sarebbe bella Beh Diabolico A me Mi piacciono Tutte Poi Ecco Chester Non si può Ancora Shoppare Con i Bling Peccato Chester Loki Ragazzi Me la potrei Shoppare E' una Di quelle Skin Veramente Che Spaccano Corvo Anche Anche Cold Cordelius Anche Perché Ce l'ho Con Overdrive Cordelius Anche E rigara Anche Però Ragazzi Noi Ci Shoppiamo Dynamite Tengu Credo Per il momento La mia scelta Rimane Questa E infatti Ragazzi Preparatevi 3 2 1 Dynamite Tengu Perché Ho Fatto Questo Ragazzi Questo Che Sta Diventando Un Video Seriamente Speciale Perché Dandava Che Ce l'ho 11 Al 25 Con overdrive C'ho quasi Tutte le skin Mi manca Lo chef E forse Quella Agente E quella Durata Quindi Poche Ora ci rimangono 2841 Blink Perciò Una Con La Schioppata Del Prossimo Pass Ritorneremo A Dei Blink Non Altissimi Ma Neanche Bassissimi Ora Una Skin Super Rara Potrebbe Essere Facile Da Scegliere Perché Dal Punto Di Vista Che Bombadino Se l'unicorno Io mi prenderei Esattamente Fatemi Velocemente Perché Scusatevi Se mi faccio Pensare Però Velocemente Io mi prenderei Questa qui O Corvo Bianco Oppure Chester Però Di Chester Ce n'è una Meglio No Ci prendiamo Questa qui Di Chester Che alla fine Tutto sommato E' bello E' bello Il bosco Incantato Chester Spirito Nella foresta Nulla ragazzi Io Spero che Questo video Vi sia piaciuto Abbiamo trovato Pure Una skin Super Rara In più Grazie allo Statro Leggendario Della skin Di Beryl Plankton Compresa In un prossimo Video Andremo a giocarci Qualche partita Ora la Seleziono Soltanto Spero che il video Vi sia piaciuto E Nulla Ciao a tutti Da Ciccio Di Lella E Ciccio Channel Ciao a tutti Ci vediamo Un prossimo Video